e bisceglie con un primo tempo vivace e una traversa per parte. Proteste poi per i padroni di casa per una palla che a loro giudizio avrebbe varcato la linea di porta avversaria. Nel secondo tempo le maggiori occasioni le hanno create gli ospiti ma gli amaranto hanno svelato ogni pericolo. Ed è in corso invece la gara tra Casertana e Rende. Al 62esimo Rende sta pareggiando contro appunto la Casertana mentre il Catanzaro scenderà in casa.